Ciao, siamo Marco e Carlo e siamo i co-founder di Trace Technologies, una società data-driven abruzzese. Abbiamo sviluppato Vigneto Sicuro, una web app che permette di monitorare il microclima e le malattie del vigneto senza installare nessun tipo di sensore in campo. Immaginate questo, ogni anno il viticoltore ha a che fare con l'aperonospora e oidio, che sono le due più importanti malattie del vigneto. Grazie a Vigneto Sicuro può prevedere e prevenire queste terribili malattie semplicemente monitorando il proprio appezzamento mediante una web app sul proprio smartphone. Grazie a Vigneto Sicuro quindi i viticoltori avranno la capacità di poter salvaguardare il proprio vigneto e questa è la nostra innovazione. Grazie.